Una nostra battaglia è stata vinta. E' così che commenta il consigliere regionale di Laboratorio Basilicata, Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, dopo l'approvazione dei due suoi emendamenti alla legge di stabilità 2014. Il primo provvedimento prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per le aziende di estrazione petrolifera e di produzione di energia. Per l'esponente di Fratelli d'Italia si tratta di un intervento che ha come beneficiare all'intera comunità lucana e, sottolinea Rosa, va a tassare chi deturpa il nostro ambiente avendo a cuore soltanto i loro profitti. Soddisfazione da parte di Rosa anche per un secondo emendamento che riguarda il rifinanziamento del credito d'imposta previsto dall'avviso pubblico sugli incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata. Un atto dovuto, ritiene il consigliere regionale, a favore di quelle imprese che avevano assunto personale in piena crisi. Un sostegno a chi ha prodotto reale occupazione in una terra martoriata dallo spopolamento e dalla disoccupazione.